Eurobasket 2017, Don Cic e Dragica battono la Lettonia Eurobasket 2017, Don Cic e Dragica battono la Lettonia. La formazione lettone lotta con grande coraggio ma nel finale cede 103-97 al cospetto di una Slovenia molto prolifica. Roma-La Slovenia batte 103-97 Una Lettonia tutta cuore e raggiunge la Spagna in semifinale, palla a due giovedì alle 20.30. Grandi protagonisti del successo sloveno sono stati il giovanissimo ma sempre più sorprendente Luca Don Cic, 27 punti e 9 rimbalzi, e Goran Dragic, 28 punti, 8 assist e 6 rimbalzi. Alla Lettonia invece non è bastato il consueto grande contributo di Kristaps Porzingis, 29 punti e 6 rimbalzi. Emozioni a non finire meno a partire meglio è stata la Slovenia che spinta dai canestri di Don Cic e Widmar è riuscita a farle evitare il proprio vantaggio oltre la doppia cifra con un primo quarto giocato ai limiti della perfezione, 34-23. Nel momento di massima difficoltà per l'etnici ha pensato Porzingis a caricarsi la squadra sulle spalle e a portarla, assieme a Bertans, addirittura in vantaggio al suono della seconda sirena, 55-51. Al rientro dagli spogliatoi la Slovenia ha ripreso subito in mano l'inerzia del MEC grazie ad un parziale di 11-0 che l'ha riportata in vantaggio, 62-55. Ancora una volta la Slovenia ha grappandosi all'estro e ai muscoli di Porzingis è riuscita a rientrare in partita toccando addirittura il meno uno sul 93-92. La volata finale ha però sorriso a Don Cic e compagni, per lui canestri molto pesanti nei minuti decisivi, che sono riusciti a piazzare lo sprint vincente.